L'Urwa è l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi. È nata nel 1949 e fornisce da allora assistenza ai profughi. Doveva essere un'agenzia temporanea in attesa di una soluzione della questione palestinese, ma ad oggi è la più antica agenzia umanitaria delle Nazioni Unite. Fornisce servizi essenziali per la salute, l'educazione e lo sviluppo ai 5 milioni di rifugiati che vivono nella striscia di Gaza, in Giordania, Siria, Libano, Cisgiordania e Gerusalemme Est. In questi 70 anni di attività, l'Urwa ha collezionato una quantità di materiale audiovisivo che adesso il Museo della Resistenza, dei diritti e della libertà di Torino ospita per la prima volta in Italia. In Corsovaldocco 4, fino al 4 gennaio, si potrà visitare la mostra Il lungo viaggio della popolazione palestinese rifugiata. Mostra itinerante, girerà il mondo e partita da Gerusalemme e ora è stata pensata, allestita e presentata appositamente per il pubblico italiano. Noi abbiamo ritenuto molto importante esserci, esserci a dimostrare un'attenzione che non vuole essere una scesa in campo di parte, ma noi crediamo, così come ho detto, che nella laicità, nell'approccio che si deve adottare affrontando il tema dei diritti e dei diritti negati, la laicità è quella di riconoscere il dramma, il dramma di un popolo che purtroppo continua a non avere un momento di serenità ma continua a ripetersi negli anni. La forza comunicativa dei documenti conducono a considerare il ruolo primario della conservazione della memoria come strumento di trasmissione dei valori della storia. Il Comitato Unrua Italia nasce nel 2012 con lo scopo di far conoscere questo lavoro e far conoscere la condizione dei rifugiati della Palestina, dimenticata in gran parte dal nostro mondo dell'informazione e anche per raccogliere soldi, fondi. L'Unrua vive di contributi volontari per cui di anno in anno dipende dalla buona volontà dei governi, dei stati membri e delle donatori privati e con questo deve assistere 5 milioni di persone, portare avanti le scuole per mezzo milione di bambini, strutture sanitarie di base e tutto questo grazie al lavoro soprattutto di migliaia di rifugiati palestinesi che a loro volta lavorano per i loro concittadini. Pensa che ci possano essere delle collaborazioni in futuro? Io auspico di sì, nel senso che con la delega anche alla cooperazione internazionale credo che ci possano essere le possibilità che sono quelle anche di comprendere come lavorare e la regione Piemonte sta man mano andando in questa direzione rispetto a quella che è la rete delle amministrazioni locali, la rete degli operatori sul territorio, provare effettivamente a dare una mano concreta e quindi la regione del Piemonte può porsi, speriamo, efficacemente come ponte rispetto al lavoro del comitato e anche appunto a quello che può essere la conoscenza di questa mostra. Dal punto di vista politico qual è il potere che ha l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi? Il potere non ne ha, ahimè, il potere è quello che ci date voi di consentire ai cittadini del mondo di conoscere i fatti e di spingere per la giusta soluzione che noi speriamo possa consentire all'Unrua di chiudere i battenti. La giusta soluzione alla condizione dei rifugiati della Palestina è un conflitto che ha macchiato quella regione e segnato gli ultimi 60 anni in un modo molto distruttivo come potete constatare guardando questa mostra. Il nostro potere è quello di ricordare i diritti fondamentali su quale si basa il nostro mandato e su quale si basa la rivendicazione dei palestinesi. Lotto per mille valdese finanzia una scuola in Palestina, finanzia diversi progetti in Palestina, tra cui una scuola per bambini con difficoltà visive. Noi ne siamo orgogliosi e felici e questo è un esempio perfetto della collaborazione e del tipo di progetti che noi speriamo possano essere sostenuti dalla cittadinanza italiana. Siamo molto felici del contributo della comunità valdese e speriamo che con questa mostra potremo portare un po' più vicino, diciamo, a casa la conoscenza di quel che si sta facendo lì, portandolo a Torino e per cui vicino alla casa madre. Grazie a tutti!